Ciao, io sono David. Samuele. Tutte e due le mani al fronte del 9 al quarto. Con la mano destra metti le marce in su con un semplice clic e la sinistra scala in giù. Andiamo. Possiamo entrare in pista che siamo tutti nei box. Cambia. Vai, cambia. Prena. E' attento, non si toccano i cordoni. Non scalare troppo, mi raccomando Samuele. Ok? Tieni costante di gas. Leggero di gas. Aumenta piano piano inserisci la marcia poi si accelera. Vai. Cambia. Cambia. Prena. Tranquillo. Mi raccomando basta scalare. Basta scalare. Stai rilassato perché se continui ad essere di fretta sbagli sempre. Chiaro? Tutto a destra. Dai gas. Vai gas. Cambia. Cambia. Prena. Stai a destra. Prena ancora. Scala. Un altro. Basta così. Occhio. Non si toccano i cordoni. Bravo. Leggero di gas. Cambia. Non devi muovere il volante a destra e a sinistra. Rimari a destra. Non andare a sinistra. Rimari qui. Cambia. Vai. Tutto a destra. Frena. Frena. Scala. Vai largo a destra. Vai. Sali in alto dove c'è il mirillo e poi, come va dire, tiene costante il gas. A destra. Occhio qui che si stringe troppo. Bravo. Cambia. 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 Frena. Tranquillo. Fermo con il volante. A sinistra. Bellissimo. Quindi a destra. Allarga a sinistra. Cambia. Cambia. Frena. Scala. Ancora. E' attento. Allarga a destra. Cambia. 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 Non ci vuole violenza. Frena. Frena. Vai. Sì. Hai perso. Hai perso. Non l'abbiamo. Hai perso. Sì sì. Ho perso. Vai largo. Cambia. Perché stai cercando la velocità. Non si capisce perché. Stai gasando. Lo so. Però devi ricordarti dove siamo messi. Larga a destra. Ribandi qui. Vai. Contino. Conta a destra. Ok. Frena. Come sto andando? Benino. Va bene. Puoi migliorare sempre. Eh. Non puoi mancare. Puoi fare qualche giri in più. Puoi continuare. Perfetto. Dopo questa furva usciamo a destra. Di fronte a sinistra. Grazie mille davvero. Cosa fai nella vita? Studio ingeniera meccanica. Appunto perché non si possono guidare queste macchine. Magari lavorarci un giorno. Si sta. 60. Wow. Veramente bellissimo. Un sogno di una vita. Davvero. Di una vita. Dai. No davvero. Davvero. Sempre guardato Formula 1 da 5-6 anni. Dietro le Lamborghini. Veramente bello. Magari ne fare un altro un giorno. Vai dritto. Si. Avvicinati. Tutte e due le parete su. Temporaneamente. Vai in fondo. Si. Grazie ancora. Davvero. Vamos a parar. Ilquinho. Si.